Per anni, la SAS Corp è stata la punta di lancia nell'esplorazione spaziale. E il mondo festeggiò quando il grande viaggio portò con sé una nuova fonte di energia sostenibile e gratuita, per tutti. Cristalli SAS, la sostanza più preziosa sulla Terra. Ma fino ad oggi, nessuno al di fuori della SAS Corp conosceva di cosa erano fatti, come funzionavano o da dove provenivano. Non c'è di che, Terra. In questa puntata di Storie Segrete, una cospirazione galattica, alimentata da avidità, bugie e violenza. Che cosa hai fatto? Io devo sapere, Rosa. Devo sapere cosa sta succedendo. Il mondo deve conoscere la verità. Loro ti stanno cercando. Lo so. Ti prego, non farlo, Blu. Torna a casa e... Girarono voci sulla vera fonte di potere della SAS Corp e sulla scomparsa di un brillante scienziato. Lì dentro ci tengono gli alieni, coso, oppure i rettiliani. Lì dentro ci mangiano i bambini. I cristalli sono fatti con l'energia dei bambini morti. Mio figlio lavorava per loro. Lo hanno portato via. Non lo rivedrò mai più. Mai più. Lui era un bravo ragazzo. Il mio ragazzo. Le persone ipotizzano che solo perché siamo una grossa corporazione segreta con potere e risorse limitate siamo per forza dei cattivi. Ma la realtà, ovviamente, è molto... Cavolo... Differente. Noi alla SAS Corp vogliamo aiutare le persone. Ma sfortunatamente c'è un costo per... Non di nuovo... Essere associati... Colpa mia... Il codice si trova sul quadrante. È una semplice... Una semplice task. Come ha detto? Si trova sul... Cazzo di quadrante, figlio di... Ce l'ho fatta. Ho trovato il cristallo su Bonus. Avevamo ragione, Rosa. È inutile. Ogni esperimento. Niente. È una menzogna. E ora possiamo provarlo. Ma allora da dove viene tutta quella energia? È quello che dobbiamo scoprire... Blu? Che succede? Non lo so. Credo di avere qualche strano sintomo da quando sono stata a contatto con l'atmosfera su Bonus. Ma... Sto bene. Sto bene. Torna a casa, Blu. Ho paura, eh. Sono qui. Scappa! Rosa! 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 Dove si trova, Blu? È di vitale importanza che tu ci dica dove sia. C'è molto in gioco. Hm! Intendi i tuoi profitti. Tu non sai cosa potrà scatenare se tornasse qui sulla Terra. Non ho paura di te. Inviate la macchina. No! No! Vi è un virus nativo di Polus. Si trova ovunque. Sulle creature del pianeta è appena percettibile. Come il raffreddore. Ma sugli umani. Scorre nelle vene con una grande energia. Infinita. Sostenibile. E pulita. Vengo a salvarti, Rosa. Non ti nuova! Blu, mi senti? Rosa, sei tu? Non puoi tornare a casa. Blu, è troppo pericoloso. Ti hanno preso. No, tu non puoi tornare. C'è qualcosa che non va. Ma tu chi sei? Un impostore. Stai lontano. Stai lontano. Blu! Rosa! Ma che posto è questo? La fonte. Quelle sono persone... Alcuni di coloro che hanno aiutato a salvare l'umanità dall'estinzione. Tu sei un mostro! Sono un salvatore! Punta al reattore! Abbattetelo! Avevi detto che non li avresti... Se Blu mette piede fuori da quella nave sarà la fine per milioni di persone. Oppure della vita sulla terra! Eccolo! Eccolo! Blu! Blu! Blu, devi tornare indietro! Blu! Tenetelo sulla nave! Bisogna contenerlo! Squadra sottomarina, andatela sotto e trovatelo! Che cosa mi avete fatto? Che mi succede? Stabilizzatelo! Fate piano! Attenzione! Oddio! Codice rosso! Impostore a piede libero! Uccidetelo! 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 Ossi! 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 Uccidetelo! Grazie a tutti.